come fare una maglia di vivagno filo davanti al lavoro passo la maglia faccio un gettato e lavoro a diritto fino a due maglie prima della fine ogni farlo inizio così e lo finisco in questo modo essere un buon bordo per delle sciarpe per dei lavori in cui abbiamo bisogno che la maglia iniziale finale siano regolari guardate bene il gettato e la maglia si lavorano assieme